Un fine settimana, sicuramente all'inizio del divertimento, della musica, a Giffoni Segasali con questa doppia serata, appunto, Emiano De Martino, Maurizio Casagrande e poi Edoardo Beniano. Certo, buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza. È il secondo anno consecutivo che il Comune di Giffoni Segasali, da quando la Regione ha indetto il POC per gli eventi musicali, per gli spettacoli, quindi è il secondo anno che il Comune di Giffoni Segasali accede a questo finanziamento. A questo punto mi preme ringraziare il Presidente della Regione Campania, l'intera amministrazione e i dirigenti che hanno, tra virgolette, approvato il nostro progetto. Come più volte ho detto, Giffoni Segasali è un paese agricolo, non abbiamo né mare e né piste da sci. Quindi il nostro intendo, l'amministrazione è a lavoro da anni per far conoscere il territorio, per far conoscere i prodotti tipici, la nocciola IGP di Giffoni, l'olio DOP e il castagno. Gli eventi serviranno proprio a questo. Continua il nostro interesse per gli artisti napoletani. Abbiamo avuto in ordine cronologico Enzo Cragnanillo, Eugenio Bennato, Peppe Barra, quest'anno avremo Maurizio Casagrande e il concerto unico in Regione Campania dell'artista Edoardo Bennato. Quindi siamo orgogliosi di questo progetto e continueremo ad andare avanti in questo senso. La musica apre dunque l'estate, possiamo dire, a Giffoni Segasali. Certo, la musica apre l'estate, successivamente ci saranno gli eventi nelle varie frazioni organizzate dalle associazioni culturali e quindi noi come Comune apriamo queste manifestazioni e andremo avanti per tutta l'estate. Il futuro invece per quanto riguarda la valorizzazione del Paese che da tempo ha puntato sul progetto del Paese Albergo e su altre iniziative, quale sarà? Certo, l'evento in programma per sabato sarà svolto proprio nel giardino antistante il fabbricato di proprietà comunale dell'ex ospedale Abbate Conforti. Quindi Sieti è una delle nostre priorità, innanzitutto per salvaguardare il burgo e quindi creare ospitalità per tutti i turisti che vogliono venire nei nostri bei territori. Sì, assolutamente, un palinzesto penso per l'importanza unica in modo gratuito della regione Campania. Il concerto di Edoardo Bennato sarà l'unica tappa nel Tour 2019 in Campania, per di più ad ingresso gratuito. Quindi il Comune di Giffonise Casali, grazie al Sindaco, alla regione Campania, ha questa grande opportunità di avere un attrattore importante per il territorio. Dove si terrà con precisione il concerto? Il concerto si terrà in piazza Giovanni Paolo II nel Casale di Capitignano, la piazza del municipio.